Perchè mi piaceva far scoprire piano piano i miei prodotti a chi viene fuori. Perchè le scarpe sono la mia vita e le mangerei anche a pranzo. Forza simile. Provaci sempre che ce la puoi fare. Beton, in assoluto. Sicuramente Cavour, non da punto di vista fisico però. È molto soggettiva ma il lusso per me è una tradizione unita a buon lusso. Per l'italianità il lusso, assolutamente. Storia della mia gente. Marketing e comunicazione.